Ciao a tutti ragazzi e bentornati da Payjumper08 In questo episodio ragazzi Volevo fare un pochino di Brawl Stars Che ne dite? So ragazzi che non sarò proprio al massimo della connessione Appunto non lo sono E farò sicuramente schifo E perderò Però ragazzi volevo vedere una cosa Conoscete i camper? Ecco voglio vedere se funziona davvero camperare Per ottenere vittoria naturalmente ragazzi Per lo... Sembra di questo Sarà un video stranissimo ragazzi Ma... Diciamo Oh mamma ma Vabbù ragazzi non serve più camperare Siamo morti Picchio di questa gemma E ciao What up? E muoio così No non sono morto Oh ragazzi No 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 se vinco Vabbù ragazzi Per ora ragazzi sono arrivato terzo Sono arrivato terzo ragazzi Sono arrivato terzo Non è mai Non è mai accaduto con Il primo Oh intanto ragazzi qui Vedete ragazzi Non è il massimo di connessione Cassa enorme ragazzi Portate fortuna? Va bene Ragazzi Non è esattamente un brother Non è qualcosa di vero Però ragazzi Mi avete comunque portato fortuna Lo farete sempre Non lo so Voglio cambiarmi Lui Allora ragazzi In questo Dicevo Voglio fare un video così Perché è da tanto che non ci sentiamo Ragazzi Sono tutta contro il sasso Oh mamamoo Ammazzano Sì corvo Ragazzi Però mi ammazzano tutti Ragazzi Ragazzi Questo non sarà Il solito video Con la miniatura La descrizione Tanta roba del genere Però ragazzi Stiamo a posto Perché moriremo Ve lo dico Ve lo dice Una che muore Facilmente Tiratevi Se lo dico Ha ucciso Bibi Cos Cos Ha ucciso Bibi Cos'ha ucciso Bibi Non le deve Dino Il solito video Preparato Tutto fatto Perché lo faccio Da telefono Ragazzi Io la miniatura Le faccio Direttamente Da pc Noting Noting È lì Diavolo 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 Sì Muori Perfetto Oh Secondo 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 Ora muoio Ora ragazzi Ora muoio Qua È proprio Ragazzi Inevitabile 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 Però ragazzi Tutto questo Noi abbiamo guadagnato Questo qua L'importante Direi Ragazzi Io con pochi Io con pochi Sono bravo Io non ho tutti Non ho nessuna Agendare Ragazzi Io ho tutti Ma tranne Di agendare Ricordate Per questo Ehm Boh Ragazzi Mi sa Che userò Lui ovviamente Da lontano Ragazzi Perché Sennò Troppo Facile Morire Perché Lui Ragazzi A parte Che è Un pochino Lento Anche Se è un pochino Anche Veloce Fa schifo Con la vita Con la vita Muoviti Muoviti Perfetto Perfetto ragazzi Perfetto ragazzi Perfetto ragazzi Dice un tic Siamo morti Diavolo Ma anche tic È difficile Da lontano Sei morto tic Yeah Momoyo Sì ragazzi La connessione Mi ammazza Questo è quello Che ha fatto Un sacco di volte E lo rifarà E almeno Se ne va via Ragazzi Sì Quello lì È morto Sembra che Ha affrontato Sembra che Affrontato Frenkola La Ma affronterà A me Come on Come on Come on Si queste sono tutte e due Da lontano Ragazzi Mi ammazzerebbero Però io Anch'io No Contro lei Oh ragazzi Se vinco Se vinco Facciamo le peggie risate No 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 ragazzi Ho vinto Ho vinto ragazzi Ho vinto ragazzi Questo l'ho fatto per voi Eh ragazzi L'ho fatto per voi E vabbè ragazzi Se non ho più così A cavolo Mi andavo a difarlo Ragazzi Per voi ragazzi E vabbè ragazzi Questo episodio Diciamo che si potrebbe Anche concludere qui Lasciatevi un bel po' di like Ragazzi Ragazzi se potete Iscrivetevi al mio canale Un saluto Da Payjumber08 Alla prossima Ciao ragazzi Ciao